Su proposta della giunta comunale di Castel Gandolfo, il sindaco di Crognaleto ha ricevuto l'onoreficenza della cittadinanza onoraria per le attività svolte in favore delle collettività che accomunano i due paesi dei rispettivi comuni, Pavona e Cesa Castina. Il sindaco di Castel Gandolfo, Milvia Monachesi, sabato scorso, ha conferito l'atto al sindaco Giuseppe D'Alonso nella sala civica alla presenza di tanti cittadini e autorità locali. Una gioia, una soddisfazione e un orgoglio del primo cittadino che in un certo qual modo ha portato questo riconoscimento non per se stesso ma per una collettività importante che sia di Crognaleto e sia del paese di Cesa Castina. Questo legame nasce appunto dalla transumanza dei miei pastori che da Cesa Castina vanno verso il paese di Pavona, una frazione del comune di Castel Gandolfo e poi a tutte quelle situazioni che si sono spostate a seguito della grande guerra, dell'occupazione. Insomma lo spopolamento della montagna in un certo qual modo e l'ospitalità di questa bellissima città come Castel Gandolfo. La capacità delle persone provenienti da Crognaleto di rimanere attaccatissime alle loro origini è singolare. Ogni cittadino che è qui ha anche una casa a Crognaleto e ha voluto rifarla qui. Questo esprime proprio una voglia di integrazione e nello stesso tempo di mantenere le proprie radici. È un esempio rarissimo oggi perché invece si cerca ognuno è diffidente anche di quello che conosce da sempre. C'è proprio la tendenza a rintanarsi nella paura. Invece i cittadini di Crognaleto hanno avuto coraggio, hanno avuto forza, hanno avuto determinazione, hanno avuto amore per la loro terra e hanno amore per la loro terra e amore anche per questa terra. Quindi veramente un grande esempio positivo. Il programma ha un fine ed è quello di unire i territori in un gemellaggio nella virtù della fratellanza delle popolazioni, delle unioni. Ancora ricordo il 24 mattina il sindaco alla mattina alle 7 mi telefonò per conoscere lo stato del sisma nel mio territorio. Quindi questo sentimento che cresce sempre più arriveremo appunto a un giorno dove uniremo i nostri territori con un gemellaggio.